Ciao a tutti benvenuti nel canale in questo video vi spiegherò come completare la sfida di ballare su una gru a pozzo traballante Pozzo traballante è questa zona qui Tutto quello che dovete fare è raggiungere una gru che trovate appunto qui nella parte più bassa della mappa E utilizzare una qualsiasi emote Quindi vi posizionate sulla gru e utilizzate una qualsiasi emote per completare la sfida Quindi selezionate un emote e ballate Pozzo traballante è qui, la gru è qui In questo modo completerete la sfida